Azienda ULS 20 Verona Azienda ULS 22 Bussolengo In collaborazione con IBER Qualità e freschezza a San Martino Buonalbergo Verona Acque Veronesi, il servizio idrico di tutti Fornitori di salute Coop Service, Manuten Coop, Cofelì Partner comunicazione ULS 20 Il servizio idrico di salute Dunque il momento della 35esima ultima puntata di salute Vedete, è un'ambientazione anomala per noi Ma non tanto se pensiamo che vi diamo la possibilità oggi Quasi in diretta di verificare insieme con i tecnici, i dirigenti, i biologi dell'ARPAV Che è l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto Di vedere monitorata la balneabilità delle acque del Garda Infatti siamo partiti, come vedete, da Motonautica Modena qua in Lazzise Arriveremo fino a Garda dove poi ci aspetterà la tavolata finale E con Loris Zoppi che è già con noi in questa imbarcazione Cercheremo di capire davvero queste acque, che tipo di qualità abbiano oggi Grazie per l'ascolto, il sommario vi attende In questo numero, lago, monitoriamo la balneabilità del Garda con i tecnici ARPAV Frutta, con il caldo offre un buon equilibrio di valori nutrizionali Diabete, una malattia da tenere sotto controllo con la giusta terapia Movimento, se ci si dà una mossa, si guadagna salute Sanità, incontriamo il nuovo assessore della regione Veneto Estate, con il sole, pelle e capelli devono essere protetti Grazie a tutti